tenetevi forte se volete news su di giri anticipazioni a tutto gas abbiamo il programma che fa per voi motor world sono volari le notizie non fanno una piega domani alle 19 questo è un paese del vulture un paese come tanti altri con il suo parroco la casa di riposo per gli anziani e il comitato per le feste patronali ma nel vulture c'è una cosa che si trova solo qui le sorgenti dell'acqua lilia leggera di origine vulcanica un'acqua che ti aiuta a sentirti giovane nuova chevrolet captiva nata dall'esperienza internazionale chevrolet nel fuoristrada e dalle più avanzate tecnologie automobilistiche un suv con tutto lo spazio e comfort che hai sempre desiderato per muoversi senza limiti nei confini ma con uno stile assolutamente unico nuova chevrolet captiva il suv secondo scivrolet simoni racing car accessories for drivers interfoni revolution talmente comodi e utili che non vorresti toglierli mai revolution un marchio bottari passion to move la tradizione è una piacevole abitudine per entrare nella leggenda per vivere in diretta ogni emozione per fare di ogni colpo una magia per non perderti mai il punto decisivo per sorprenderti ancora una volta se vuoi metterle alla prova se vuoi vederle sfidare il rischio se le ami veramente hai una sola scelta nuvolari perché la passione per le moto non si improvvisa